Sarà Castelbuono, autentica perla incastonata nelle madonie a ospitare giovedì 2 giugno la dodicesima edizione del Gran Gala dello Sport. L'evento, organizzato dalla nostra emittente per celebrare la chiusura della stagione sportiva, nel pieno rispetto della sua vocazione itinerante, oltrepassa per la prima volta i confini provinciali, per essere ospitato in un comune ricco di storia, cultura e turismo. Castelbuono, centro collinare di 9.000 anime, nato dalla stirpe sicana, che ha conosciuto conolizzazioni greche, bizantine, arabe, normanne e romane intorno al XIV secolo, grazie alla famiglia dei Ventimiglia, ha cominciato a ricoprire un ruolo leader nel vastissimo territorio a cavallo tra Nebbrodi e Madonie. Oggi il centro palermitano vive principalmente di turismo, ma a Fiorente sono ancora agricoltura e artigianato. Sportivamente parlando, Castelbuono è sinonimo di podismo, conosciuto per il giro che con oltre 100 anni di vita è la corsa su strada più antica d'Europa. Un legame con lo sport che giovedì 2 giugno sarà maggiormente evidenziato con i premi alla tribuna sportiva. Castelbuono per una sera sarà al capitale siciliana dello sport. Qui infatti saranno ospitate e premiate tutte le maggiori società dell'isola che nella stagione appena conclusa hanno acquisito la promozione nel campionato superiore. Tra queste, ovviamente, i Gea Virtus Sant'Agata e Torregrotta. Dal calcio al basket, dalla pallavolo al rally, dalla pallannuoto al podismo, il gran galà dello sport celebrerà atleti, società e personaggi che hanno raggiunto traguardi prestigiosi. Tra le personalità che nobiliteranno questa dodicesima edizione, il campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 1982, Franco Causio. Il barone presenterà a Castelbuono il suo libro, scritto con il giornalista Italo Cucci. Vincere è l'unica cosa che conta. Riceveranno il premio anche il centrocampista del Carpi, Marco Crimi, il giocatore dell'Orlanina Basket, Gianluca Basile, gli allenatori Andrea Sottilde Siracusa, Pino Rigoli dell'Acragas ed ancora i direttori sportivi Dario Baccin del Palermo, Daniele Faggiano del Trapani, Cristiano Argurio del Messine e Antonello Laneri del Siracusa. A questi e tanti altri verrà consegnata l'esclusiva creazione delle ceramiche frattantoni di Santo Stefano di Camastra.